L'occitano era la prima e la più importante lingua letteraria del Medioevo. C'è anche nei secoli successivi una importante letteratura, solo oggi l'uso orale dell'occitano sta scomparendo perché in Francia, dove vive la maggior parte della popolazione, la politica linguistica dello Stato non è favorevole alle lingue minoritarie. A Guardia abbiamo meno di 300 parlanti e nessuno è interessato alla lingua. Dovrebbe venire qualcosa da fuori, ma se la popolazione non è interessata c'è poco da fare. Grazie. 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 Grazie.